Ciao ragazzi, benvenuti, grazie di essere qua a venti, come state? Bene, tu come stai? Bene, grazie. Bene, bene, tranquilli. Meno male. Allora, diciamo che ci possiamo dire colleghi in qualche modo, o comunque l'esperienza che voi state vivendo in questo momento di esposizione sui social, anni fa è successa anche a me e quindi mi piacerebbe tantissimo confrontarmi con voi per capire se le cose oggi sono cambiate, perché internet è parecchio diverso da com'era dieci anni fa. Cioè, YouTube era rivoluzionario, tipo quando ho incominciato a fare i video io. E vorrei partire proprio da questa cosa, cioè, durante il mio percorso, ho come avuto l'impressione tantissime volte di dover giustificare la mia professione, sia quando non era ancora una professione ed era un hobby, sia quando è diventata una professione. Tipo, faccio i video su YouTube, ma sono anche una persona... È una sensazione che vi capita, che avete anche voi? Abbastanza. Sì. Faccio i TikTok, però lavoro anche in un ufficio, tipo io adesso. Oddio, non più, morto. Vabbè. Però, sì, lo dicevo. Lavoravo. Sì. Anch'io. Faccio i TikTok, posto su Instagram, però vado anche all'università. Sì. Quindi è rimasta, secondo me, come sensazione. E con i vostri amici avete sentito la stessa cosa, perché io, cioè, non è che mi vergognassi con i miei amici di postare video, però non era una cosa proprio, tipo, inizio a fare pattinaggio, ah, che figo, veniamo a tutte le tue gare, è incredibile. Cioè, non era così immediato, era sempre un po' tipo, ma fammi capire, ma di cosa vuoi parlare, ma in che senso, ma firmi anche me. Cioè, poi capisco, ovviamente, se uno vuole essere incluso in questa cosa, però c'era un botto di diffidenza. Sì, allora, con i miei amici in realtà è sempre stato stra-easy. Cioè, loro mi dicevano, che figata. E secondo me adesso c'è sempre più gente su TikTok e TikTok fa strano se non ce l'ha in realtà. Quindi, secondo me, è cambiata la cosa rispetto a YouTube. Cioè, prima YouTube era più, fai video su YouTube, ok. Adesso, ah, fai video su TikTok, ok. Quindi, niente, i miei amici in realtà mi sostengono, è stra-easy. Non è cambiato niente. Sì, sì, ma secondo me, tra amici e così, è più con gli sconosciuti. Per esempio, a me capita una cosa che mi imbarazza tantissimo. Quando scendo per strada, magari qualcuno mi ferma e ci sono altre persone accanto. Bruttissimo, la sensazione è bruttissima. Ah, ma perché? Cioè, ti guarda e fa, ma perché che fai? Oh no! No, vabbè, cioè, niente. No, ma perché fai video? Sì. E che video fai? Ah! Non sai mai come rispondere veramente. Perché vuoi ridurre tutto il lavoro gigante che fai giorno per giorno a che video fai? Cioè, anche poi con molta diffidenza, secondo me, ti chiedono questa cosa. Come a dire, dai video che fai io ti qualifico e ti categorizzo come persona. È bruttissima questa sensazione, secondo me. Però tra amici, cioè, io ho sempre visto molto sostegno. No, anch'io con gli amici, ma è nessun problema. Forse non riescono a capire, dal punto di vista lavorativo, che può essere anche effettivamente un lavoro. Quello magari ancora non è così immediato. Però per fare i video e così, sempre sostenuto. Sì, una cosa che vedo tantissimo, tipo, con mia sorella e i suoi amici. Mia sorella ha sette anni meno di me, e quindi chiaramente è un utente di TikTok. E loro li fanno anche, tra amici. E cioè, è come se, non so, se io volessi fare un TikTok con le mie amiche, dovrei dire, ok, tra un'ora facciamo questa cosa. Invece loro, a un certo punto, tirano fuori il telefono, tac, parte la canzone e gli altri sanno già che trend è. Quindi, tipo, questa cosa mi diverte. E una cosa che, in realtà, vi volevo chiedere dopo, ma mi è venuta in mente quando tu hai detto che ti fermano per strada e le persone accanto ti chiedono che fai, è che, non lo so, ma un'altra percezione che ho è che sia diverso anche il modo di essere popolari. Cioè, è chiaro che ci sono tante persone in più sui social rispetto a quando io faccio YouTube, per cui avere centomila iscritti su YouTube, a un certo punto, ieri era l'anniversario dei miei centomila iscritti su YouTube, tipo, sette anni fa. Grazie, grazie. Cioè, era wow. Adesso è come se avessi l'impressione che ci sono tante sottobolle, tipo, e quindi magari sei conosciutissimo, conosciutissima in uno specifico anche proprio gruppo di persone, neanche più target. È così? Ma oppure sei anche fermato da persone che effettivamente non sanno chi sei. Ah, sì. Ma sei quello di TikTok? Oddio, possiamo fare una foto, però non sanno il tuo nome, tipo. Zero. È certo perché TikTok è stranissimo su questo. Mille volte io, tipo, vorrei ritrovare una persona che ho visto su TikTok, ma non so come si chiama. Sempre. Però magari hai presente chi è, perché hai visto un po' di suoi video, perché ti capitano. Quindi, sì, succede anche quello. Quindi magari siamo anche fermati, adesso non so se, beh, sì, penso anche voi, siamo fermati anche, cioè, tanto anche da persone che effettivamente poi, boh, non sanno neanche il tuo nome. Ma questo è interessantissimo, non ci avevo pensato, effettivamente è più tipo la TV questa cosa. Cioè che sei noto… È la faccia. Sì. Esatto. E quindi poi le persone con cui noi siamo, soprattutto se sono adulti, capiscono ancora meno, perché effettivamente ti fermano dicendo sei quello di TikTok, non il tuo nome. Quindi dicono, ma che cazzo succede? Quello di TikTok, quello di 10.000 persone, cioè quindi… Esatto. È vera questa cosa. A volte io dico no. Sei quello di TikTok? No. Ma ci sarà verde? No. Anche a me è capitato. Assomigli troppo a Stavio Viscardi, me lo dicono tutti, di passesso. Assurdo. No, no, sempre. A me dicevano solo che assomiglia a Francesco Mandelli, ma in effetti devo dirgli no, non sono Francesco Mandelli. Quindi è un po' diverso. Ma mi inclusisce per i creator la fase che c'è prima di essere un creator che poi ci lavora. Voi come vi è venuto in mente di renderla una carriera? Cioè, l'avete pensato? È capitato? Come nasce questo desiderio, immagino, poi di fare questa cosa? È capitato. È capitato. Proprio casualmente. Stavo in quarantena e ho detto, beh, mi scarico TikTok. Così. Ho detto, faccio qualche video, li mando ai miei amici, mi diverto. Un video e il giorno dopo era esploso. Ho detto, ah, e poi vedendo anche, secondo me, i commenti positivi, questa cosa ti sprona. Cioè, bene o male l'approvazione, secondo me, è sempre motivo di... Ti portava male. Sono riuscito, esatto. Sono riuscito, esatto. Comunque fa piacere. Eh, sì, 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 sì. Quindi casualmente, completamente in maniera casuale. E che mi inclusisce perché sugli altri mezzi, comunque, immagino che tu abbia fatto decine di video prima di diventare una cosa grande. Mentre invece su TikTok ne basta magari uno. Uno. Proprio uno. Per generare un'attenzione così forte. Sì. Io ho iniziato... Penso che i TikToker, la frase che c'è da dire è ho iniziato in quarantena. Esatto. Tutti. Quasi tutti. Tutti in quarantena. È vero comunque, non siete i primi che mi dicono questa cosa. Quindi in quarantena ho iniziato a fare video. Prima in realtà avevo un profilo TikTok con una amica dove facevo i balletti. No. No, no, no. Gioro. Io avevo musica lì, ragazzi. Ma è quello che ti ho sgamato. Gioro. Ti ho mandato il video. No, ok. No, l'ha imbarazzata. No, 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 imbarazzata. Vabbè, comunque non lo voglio fare. No, comunque ho iniziato in quarantena video. All'inizio lip sync, comedy. E poi video originali, un po' di sketch. E poi c'è quel video che va e basta. Sì, perché è stato un escalation. Balletti, lip sync e poi intrattenimento. Esatto. Comedy. Vero. Ecco, io vi immagino un po' come dei cantanti. Sai, vedete, i cantanti hanno la hit e poi tutta la vita devono rifare la hit. Sì. Cioè, quindi un po' questa roba qua del tornato all'America la capisco. Faccio una domanda più leggera, anche la leggeriamo un attimo. I cantanti sul palco hanno questa cosa di essere su un palcoscenico e quindi spesso desiderati. Per voi, questa questione qua dell'essere visibili su TikTok ha avuto a che fare anche con la vostra vita privata? Cioè, vi ha reso più appetibili, più facile conoscere persone? Volevo chiedervi. C'è anche questo, ma Sofia ha questa volgarità intrinseca. Vai Sara, prego. Su TikTok però bisogna stare attenti. È questo, eh. È il minorenno in agguato. Vabbè. Quindi, no. Morto. Cioè, nel senso, il pubblico è giovane comunque. Che poi sembra non giovane, ma è giovane. Io credo che quello che voleva sapere Lupo è se, cioè perché, ne parliamo sempre io e lui, perché lui dice com'è possibile, perché io sostengo, ma poi la verità, che la mia posizione non mi ha fatto scopare di più, mi ha fatto scopare di meno. Cioè, nel senso che gli uomini hanno avuto paura di me. Gli uomini hanno avuto paura di me, quindi, cioè, io ne parlo sempre con lui. Ho avuto un sacco di relazioni con persone che avevano a che fare con il mio mondo, ma perché le avevo conosciute grazie al mio lavoro. Però non è che io ero affascinante per loro, perché io ero la youtuber. La youtuber, vietato scopare, secondo me. No, io non quello. Più che altro, cioè, ho avuto persone che volevano diventare mie amiche o mie, insomma, relazionarsi con me solo perché ero conosciuto sui social. Quindi non sai mai quando è reale la cosa o quando no. Quindi prima che sono invisibilità, cioè tipo che attirate le falene che vanno verso la luce. Esatto. È brutto. Proprio ultimamente mi è successa questa cosa, vi stavo parlando con una ragazza e mi ha detto, dai vabbè vediamoci, che fa? La prossima volta porta anche X, Y e Z. E io... Esatto. Cioè... Red flag. Eh sì. Eh sì. Quindi su questo è vero, però un'altra cosa ancora sullo scopare. In realtà io pure, cioè scopo di meno perché ho questa cosa di prestazione. Cioè dico, oddio, io sono Sara Verde ai suoi occhi. Quindi, oddio, non è che poi deludo le aspettative e quindi, cioè, mi freno e... Quindi poi è un falso mi... Cioè attrai di più, però poi forse nel concreto mi... Che mi affascina molto è che parlavamo dei cantanti, cioè i cantanti, in solito, fanno la roba proprio del... Cioè vado sul palco e poi c'ho... Uomini eterocis? Uomini eterocis, però non solo uomini eterocis, cioè... Questo è sul cantante è un po' una forzatura, cioè nel senso che secondo me è legata al fatto che sia una roba real, cioè una cosa che sei su un palco con delle persone in una stanza. Cioè che devi essere più legato con la dinamica lì, mentre invece forse sul digitale è un po' diverso e attira la luce. E questa cosa qua mi ha molto incuriosito. Sono contento, grazie. È vero che i social network poi quando arrivano gli adulti perdono coolness? Cioè io sento che Instagram un pochettino sta subendo questa cosa qua adesso. Quello che è successo a Facebook, no? Che sono arrivati i nostri genitori e a un certo punto non potete più scrivere le cose che volete scrivere. E sono andato su Instagram e adesso forse stanno seguendo su TikTok? Secondo me su TikTok è più vero. Cioè io su TikTok mi sento più a mio agio che su Instagram. Perché su Instagram, per esempio, pubblico una foto. Dico no, deve essere la foto in cui sono venuto bene tutto. Su TikTok pubblico un video, cioè anche se faccio schifo, non mi interessa a zero. Cioè mi sento proprio più a mio agio su TikTok. Poi per quanto mi riguarda, poi magari no. Vuoi? Stessa cosa. Ma anche perché, come hai detto tu, secondo me anche il pubblico cambia. Cioè su TikTok sono molto più giovani e secondo me hanno tutti molto la voglia di sperimentarsi, di conoscersi. Invece su Instagram ci sono persone già formate che pensano di poter giudicare per questo. Quindi secondo me è un po' questa la differenza. E anche io mi sento molto più me stesso su TikTok piuttosto che su Instagram. Ma anche tipo a livello di commenti, commenti d'odio su TikTok, pochissimi, forse mai. Questo anche perché secondo me l'algoritmo è più specifico su TikTok. Ecco, parliamo un attimo di questa cosa. Una volta ero sul mio telefono su TikTok, di fianco a mia sorella, scorrevo TikTok. E lei mi dice, amo? Che algoritmo di merda che hai? Cioè? Ma tu la chiamiamo amo? Certo, io mi so, la ci chiamiamo amo. E cioè mi... Sono rimasta un po' shock, tipo, cioè non solo... Tu hai visto il mio feed. Hai visto tre video che io scorrevo e hai capito che a me piace... Cioè mi stai giudicando come umano in base a quello che io sto vedendo sul mio feed di TikTok. Bizzarro. Eh sì, perché sono molto diverse. Cioè proprio for you è vero che... No, ma ci sono proprio... Per te. Straight TikTok. Straight TikTok, alt TikTok Italia, TikTok America, gattini, TikTok no sense. Esatto. Un sacco di sezioni, sì sì, assurdo. Sono finita su clean talk per sbaglio una volta. Ok, però quelle... Bello, bello. No, perché io mi sento... Ragazzi, io mi sento una merda perché io non potrò neanche mai lontanamente poter essere così. E quindi guardo questi video di queste case linde mentre il pavimento di casa mia fa cagare e io non lo pulirò. Quindi mi sento male, non userò... Cioè io posso... Come si pulisce il asciugamano? Ok, vado, guardo il video. Servono 18 cose che io non ho, che non comprerò. E quindi mi fanno solo stare male questi che hanno queste case che puliscono. Tipo, l'altro giorno, per colpa di un clean talk, ho pulito, piangendo, tipo, il cassettino della lavatrice. Così. Che era muffito da quando vivo lì, praticamente. Però pensa all'influenza. Sì, però non sono stata bene, stavate sporco lui. Poi hai cancellato TikTok. Sì, cioè, poi ho detto basta. No, però questa cosa dell'algoritmo mi interessa sia perché, cioè, mi chiedo se c'è proprio un livello di interazione tra le persone che ha anche a che fare con il loro algoritmo di TikTok. E poi, perché sempre seguendo la domanda di Lupo, perché TikTok è meglio di Instagram, vi chiedo, quando aprite TikTok, perché immagino lo utilizzate anche come utenti, che cosa vi aspettate di trovare? Cioè, perché aprite TikTok? Io, due cose, cioè, sia intrattenimento puro, quindi video divertenti, comedi, oppure io guardo, cioè, a me sulla For You ho un sacco di video, tipo, sulla biologia, che spiegano animali, nozioni strane scientifiche. E quando mi capitano i video li guardo tutti quanti. I video sulla biologia, due punti, il cane con la lingua fuori. No, 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 no. Dal figestrino, no, 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 lo so, lo so, io invece ho tutti animali stupidi, mi dicono animali anch'io, no, la stessa cosa. No, anche quelli, ovviamente. Ma, ma. Io che mi aspetto? Forse di distrarmi, cioè, secondo me questa è la cosa positiva e negativa di TikTok, cioè che è molto alienante il meccanismo di scrolling. E quindi io, secondo me, inconsciamente lo apro per staccare il cervello da quello che mi sta succedendo. Poi cosa spero di trovarci in realtà è relativo, perché è l'effetto che ha, non tanto il contenuto. Poi però devo dire che i miei amici li stalkero, cioè, su questo, cioè, tipo, vado sempre a vedere se hai postato amore. Per forza, per forza. Quindi passo anche molto tempo nei seguiti, oltre che nei per te. Io, io TikTok da quando faccio, forse non da subito, però da quando faccio video, come utente lo utilizzo di meno. Sì. Cioè, prima veramente le ore su TikTok e non mi rendevo conto. Ma tipo 4 di notte. No, 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 no. Cioè, 6 di mattina. Veramente. Che ti arriva il video, lo stai usando da troppo tempo, vai a dormire. Quello mi viene un'angoscia, raga. Assurdo, però non lo uso più tanto e quando lo uso, lo uso anche per ispirazione per i miei video. Quindi non so, io sono tanto in TikTok US e quindi... È tornato. Sì, sì, è tornato. E quindi vedo video che mi fanno ridere e... Scusate? Cioè, mi state prendendo in giro? No, vai. No, ok, va bene. Comunque, vedo video che mi piacciono, li voglio... Io mi voglio ispirare a quei video e poi creo contenuti ispirandomi a quei video, ecco. A me, infatti, è una domanda strana perché da... Cioè, nel senso, chiedo sempre agli altri qual è il loro rapporto con Instagram, ma so che non riuscirei a rispondere davvero come un utente normale. Cioè, normale, nel senso che non ha un pubblico di persone che non conosce, ecco. E io passo ora a vedere i miei stessi video. Cioè, questa è una cosa super... In questo lo facevo anche io con i miei, però. Ragazzi... No, 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 no. Ma su TikTok? Sì, ma proprio vado fino a giù, ne vedo tantissimi. Infatti, a volte... Ma in che parte TikTok stai? Nella mia. Nella mia. Nella tua. Però mi capono di vedere i miei video vecchi e dico, ah, guarda. Eh, io pure, guarda com'ero felice. E poi... Sì, sì. No, io zero, non li riguardo mai. Le storie su Instagram, sì. No, ma su Instagram... Eh? Ma te li guardi mai i video vecchi? No. Ma quasi mai. Volevo aggiungere una cosa. Un'altra cosa che mi interessa su questo. Io come te spegni cervello. Cioè, TikTok mi piace molto quando voglio... Cioè, ho bisogno di distendere il mio corpo da qualche parte e guardare delle cose che mi intrattengono virgola. Per questo, però, al contrario di Instagram, che è un social che, cioè, apro ovunque, in qualunque momento. Anche adesso, magari tu mi stai parlando mentre mi parli, non mi accorgo nemmeno che sto guardando Instagram. TikTok no. Cioè, TikTok mi sembra quasi si può divergognarmene, però non è una cosa che mi capita di consultare più volte al giorno. Cioè, ci deve essere un momento in cui io so che ho almeno mezz'ora, perché se no è un coito interrotto anche. Quindi, tipo, non è che lo apro così mentre sto uscendo dalla stanza per andare di là. È impossibile che apro TikTok. Ma forse anche perché TikTok comunque devi ascoltare. Cioè, se lo guardi muto perdi il 90% delle cose. Invece Instagram magari puoi anche scrollare, vedi i post e le storie le skippe un po' così. Invece TikTok implica proprio più... Instagram, secondo me, è anche... Cioè, lo apri veramente in ogni contesto. Sei a disagio, in un gruppo di persone che non conosci, vabbè, sto su Instagram così. È un rifugio. È un po' come una sigaretta. Esatto. Il tema della censura? Come la vivete? È un posto di censura? Eh, sì. Lasciamo perdere. Mi hanno chiuso 18 profili. Cioè, io ho dovuto ricominciare un sacco di volte perché per questa cosa mi chiudevano. Io ho propri profili, definitivamente. Che poi è strano perché da una parte mi sembra che TikTok privilegi molto l'utente che fa i TikTok perché, come dite voi, a un certo punto il mio video è diventato virale, ho ricevuto approvazione e ho continuato a farli. Quindi, anche quando noi con venti siamo andati su TikTok, che facciamo dei numeri in generale da piattaforma editoriale, siamo andati su TikTok e ho visto che TikTok ha voluto far comparire nel feed il mio video a tantissima gente, anche che non mi vedeva da anni. E quindi c'è stato immediatamente questa roba per cui i primi video che abbiamo postato sono andati tantissimo. Poi ho postato un video tipo di… un pezzo di un'intervista che avevo fatto a Tiziano Ferro che ha fatto un milione di visualizzazioni in 24 ore. Mai capitato nella storia di venti che un video facesse così tante visualizzazioni. E quindi mi sembra così strano che mi privilegi tantissimo perché vuoi che io ti uso, perché se tu mi fai vedere che i miei contenuti qua vanno, io ne faccio tanti. Però poi dico Instagram e mi chiudo il profilo. Assurdo. Beh, ma TikTok all'inizio ti spamma un sacco secondo me. Sì. Perché ti fa… ti dà quell'assaggio di fama anche. Cioè tipo 10.000 followers, che sono tanti, ce li hanno un sacco di persone. Cioè è facilissimo. Tutti. Tutti. E quindi ti attrae così, poi però magari a una certa dice vabbè, resta là nel tuo. Sì, ma infatti questa è la difficoltà poi del content creator, riuscire a mantenere la crescita. Senza farsi chiudere i profili per censure, quindi… Cosa è cringe su TikTok e cosa è cringe per voi? Di balletto. Ma secondo me non sono… Dai, amo alcuni… Sono stati un po' sdoganati però. Sono stati un po' sdoganati. Secondo me è cringe il drama su TikTok. Eeeh, come? Cioè vabbè, cringe è meraviglioso. A me? Mi rinassa. Io vivo. Io vivo. Per il drama. Sì. Bello. Cioè è proprio… Mi piace starne fuori e essere lo spettacolo. Spegni cervello e ogni tanto mi capitano queste storie, raga. Poi adesso non ho neanche voglia di fare nomi, dopo ne parliamo, ma veramente wow. Ovvio. In questo drama c'è tipo di non fare nomi? No, no, no. Ma fai finta che non abbia capito cos'è, cioè spiega a me. Cioè tipo, scorro la home e a un certo punto mi compare video di tipa che dice, allora, devo chiarire subito tutta questa storia e racconto una cosa che tu non sai e dici voglio sapere tutto e vai sul profilo della tipa e dell'amica taggata e nella diretta quella parla di quello, poi ci sono i profili che ripostano solo le storie di drama complete per farti seguire. Domanda. Ma è tipo, amo l'arco, l'abbiamo noi per le frecce? Quella roba che era venuta su tipo trash italiano? No, è molto più esplicito secondo me il drama adesso. Sì, sì, sì. Sì, ora si fanno proprio i nomi. Siamo arrivati a quel punto. Sì, sì, allora io stavo con lui, poi quella brutta antipatica della mia amica è andata con lui e poi dopo, allora io ho scritto a quello, vi faccio vedere i messaggi, ecco le scritte, tutto così e tu dici wow, cioè è come se all'improvviso avessi degli amici e ti interessasse tantissimo come me hanno litigato e poi te li dimentichi perché cioè ogni tanto mi vengono in mente delle cose che per una sera erano le più importanti della mia vita e poi non ho mai più saputo come erano date avanti e comunque anche questo è TikTok. Nel senso è cringe, però interessa un botto. Sì, sì, quello sì. Cringe, cringe. Infatti mi viene... Oddio, ci sono tipo alcuni video di adulti che però fanno cose... Forse si può fare un nome, mi sono girata... Oddio... 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 Sono alcuni video di stare a verde, è giusto, però... Cringissimi... No, tipo però di adulti che fanno cose, madonna ce n'è uno in mente, vi giuro l'ho visto sette volte ieri perché la gente lo continuava a ripostare, che tipo diceva... T'ho fatto vedere, penso... Tipo, vuoi essere il mio cane a Baia? Giuro... Cringe... Tipo quelle cose tremende... Sì, forse è vero, gli adulti sono un po' cringe... Però secondo me sono fighi gli adulti su TikTok... Infatti, perché dobbiamo entrare in quest'ottica, cioè noi ci sentiamo giudicati dagli adulti, quindi iniziamo noi a non giudicare gli adulti... Sei troppo buono... Ah, no, no... Ministro della... Risaggio... Di diplomazia, cioè... Assurdo... Però sono cringe... Avete mai pensato al fatto che... Cioè, siete già arrivati a quella fase che magari non ci arriverete mai, spero... In cui vedete le cose vecchie e pensate che tenerezza barra che imbarazzo... E tu mi racconti sempre questa cosa, di vedere le cose di quando hai iniziato e dire... Ne parlavo l'altro giorno con i miei amici che si stavano inviando i loro vecchi musical.ly... Io, vabbè, non l'ho mai usato, cioè io veramente ho scaricato i social l'anno scorso... E ho pensato... Ora per voi sono cringe i musical.ly, quindi probabilmente tra cinque anni io riguarderò i miei TikTok e penserò... Che cringe, cioè ho veramente mostrato queste cose. Questo mi spaventa. Ma a me succede già... Cioè, nel senso, tu prima dicevi appunto che tu riguardi i tuoi TikTok. Io non lo faccio, ma perché se li guardo dico... Ti gringi? No, io i miei TikTok... I miei... I miei TikTok vecchi... Mi piacciono. Cioè, forse mi piacciono di più di quelli che faccio... Cioè, ho tipo nostalgia dei miei vecchi video. Idem. E quindi, guardando lì, dico... Ah, che carino. Però, 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 per tornare a musical.ly, io li facevo di nascosto. Perché là avevo... La dicevo, no, è imbarazzante fare così, così, concivolare. Cioè, veramente bezza. Cioè, veramente bezza. Era visto come... Cioè, dicevi a musical.ly, faccio video su musical.ly, dicevi... Cioè, pensavi cringe. Sì. Invece adesso TikTok comunque... No, è figo. È figo. Cioè, se uno fa video su TikTok, se è figo. Io non so cosa sia musical.ly, lo confesso. È la stessa app. Prima si chiamava musical.ly. Ma ricordo Dub Smash? Dub. Un'altra. Però non so. E' una roba che è successa a un certo punto in cui andavo all'università? Era un'altra. Sì, sì. Che è durata per... Cioè, TikTok ha fatto un ribranding. Non si chiamava TikTok. La stessa applicazione si chiamava musical.ly, tra l'altro era nata con un altro scopo, assolutamente. Cioè, era nata come applicazione per tipo cantanti emergenti. Quindi voleva avere completamente un altro obiettivo. Poi ci sono accorti che le persone hanno iniziato ad utilizzarlo in quel modo lì. E quindi hanno ribrandato tutta la situazione e l'hanno chiamato TikTok. Ma prima si chiamava musical.ly e io ce l'avevo e facevo... Con mia sorella li ho riguardati l'altro giorno perché li facevo con lei. E c'erano proprio, come adesso, ma solo, delle coreografie. O tu creavi le tue, però di base c'erano delle coreografie e tutti le facevano. Troppo ridere. Ma poi quando entravi in musical.ly c'era... Selena Gomez ti ha invitato a duettare... No, io non lo usavo, quindi... No, ti giuro, tutti era così. C'era questa cosa di default che il primo video era una notifica con... Selena Gomez ti ha invitato a duettare la sua canzone. Ed era Kill Them With Kindness. Bellissimo, raga. Mi sentivo proprio l'invito da parte sua. Sicuramente. Sicuramente. Non so come chiudere questa cosa, se non dicendovi grazie mille. È stato molto interessante. E in bocca al lupo per tutte le cose che... E vi aspettiamo a sto TikTok. Ci siamo? No, ma con profili... Non so, iniziate a fare i pov. Esatto. Simpatici, non quelle robe... Non quelle robe... No, no, no. Infatti i palletti. Dai, dopo postiamo un bel palletto. Dal mio profilo, credibilissimo. Mi prego, dai, va bene. I amfollo. Grazie mille. Grazie a te.